Si cerca di capire cosa sia successo all'interno di acceglierie venete nel capannone di riviera Francia a Padova dove ieri verso le 13 c'è stata una grossa esplosione. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta sull'incidente, l'ipotesi di reato e di lesioni colpose gravi. A breve sono attese le relazioni dello Spisal oltre a quelle dei vigili del fuoco e della questura padovana presenti sul luogo. Sono stati dimessi intanto due dei tre feriti che ieri erano stati portati all'ospedale Sant'Antonio di Padova. Per loro fortunatamente solo ferite lievi. Resta invece ancora ricoverato in terapia intensiva all'azienda ospedaliera cittadina il 49enne di origini bosniache. Non è stata ancora sciolta la prognosi e le sue condizioni destano preoccupazione. Sono gravi per lui i traumi e l'ostioni che ha riportato dopo l'esplosione. I sindacati che nei prossimi giorni organizzeranno una manifestazione di solidarietà per i lavoratori coinvolti tornano a chiedere sicurezza sui luoghi di lavoro. Se dal 2018 sono passati cinque anni ma non si è intervenuti per esempio sui processi e ci troviamo nella stesso stabilimento, nella stessa zona ad avere un incidente di questo tipo con delle persone coinvolte, coinvolte in modo potente e grave, tanto da essere ritenuti appunto in situazioni gravi, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. L'organizzazione del lavoro non può rimanere semplicemente in capo all'azienda, va discussa, condivisa con le organizzazioni sindacali, con i rappresentanti per la sicurezza, soprattutto in aziende di questo tipo. Da parte del sindaco di Padova arriva la solidarietà e la vicinanza ai lavoratori coinvolti nell'esplosione. La sicurezza sui luoghi di lavoro, ha detto il sindaco Giordani, rappresenta un valore assoluto che tutti e anche le istituzioni dobbiamo perseguire e rendere concreto ogni giorno. E proprio alle istituzioni si appellano i sindacati che dopo l'incidente del 2018 firmarono un protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo è soffragata anche dalla realtà in quanto noi firmammo all'epoca un protocollo voluto fortissimamente dalla parte sindacale per la sicurezza sul lavoro nella nostra provincia. Purtroppo parte di quel protocollo ancora non è stata attuata e spero che adesso qualcosa si muova e si muova molto molto velocemente.